Settecento, ottocento, settecento, ottocento, settecento, ottocento, settecento, ottocento Questi c'hanno due a una, mi c'è mangiato i due al Lombardo Ci dobbiamo dire al signor sindaco, fa illa Prendiamo un tavolino con quattro sedi, ma deve stare qua Ci dobbiamo dire al signor sindaco Che si era messo col pirizuoma là con le mutante in piazza Che possiamo prendere una peste bubonica Questi c'hanno due a una, mi c'è mangiato i due al Lombardo Tutte queste belle porcherie le va a fare a casa sua Che cos'è, c'è l'industria? E c'è l'industria Ci dobbiamo dire al signor sindaco L'avvocato Pippo Failla, oggi sindaco Questi c'hanno due a una, mi c'è mangiato i due al Lombardo E' una vergogna sul paese di Paternò Cittadini a rispichare, perché siamo due a meno, siamo ancora in tempo di una pese A 3.000 quasi al momento, il cervello lo abbiamo ancora chiuso A rispichare tutti i cittadini, per questo di noi, a mapparare è di giusto Per noi chiamiamo i diritti come è di giusto Che cos'è, c'è l'industria? E c'è l'industria c'è Vogliamo un commissario straordinario, oppure ordinario, ma che sia un commissario 700, 800, 700, 800 Ma io penso che è stato detto tutto quello che bisognava dire, quindi è un fatto insopportabile E se noi abbiamo bisogno possiamo morire con i cani Questo è assurdo!